Un saluto a tutti cari amici e benvenuti sul mio canale. Per prima cosa sono molto contento che vi sia piaciuto così tanto il video del maestro del dotto. Io sicuramente gli chiederò di farne, di ritornare sul canale e di fare almeno una collaborazione al mese. Sarebbe veramente una bellissima cosa che dà qualità e anche vivacità al canale con contenuti con persone sempre diverse. Invece nel video di oggi andiamo a guardare insieme come si è concluso il St. Louis rapido in blitz e analizzeremo una delle partite che hanno deciso il torneo, quella blitz, tra due giocatori in rimonta sul francese Vachelagrave da solo in testa. Stiamo parlando di Fabiano Caruana di bianco contro Ian Nepomnici, mitico russo di nero. Ma prima di iniziare lasciatemi salutare e ringraziare per Luigi e Davide, due nuovi abbonati alle mie video lezioni, che sono una libreria di video che trovate qui sul canale. Una libreria che cresce mese dopo mese con nuovi contenuti, che conta quasi 30 ore di video lezioni, alle quali potete accedere con soli 2,99€ al mese. Questo naturalmente è il più grande supporto che potete dare al canale. Fatemi anche introdurre velocemente il manga blitz. Guardate, vi faccio vedere. Questa non è una sponsorizzazione a pagamento, molto ben fatto questo manga. Io ne avevo già sentito parlare, mi hanno mandato i primi due volumi, io naturalmente li ho letti. E come dicevo è veramente un bel manga, che consiglio a tutti gli appassionati di manga, soprattutto a quegli appassionati del canale, che sono anche appassionati di scacchi. Tutto naturalmente in italiano. Sono previsti 25 volumi belli, belli consistenti. Guardate, circa 240 pagine in media per ogni volume. E quindi per tutti quelli interessati, tutti i link in descrizione sotto al video. E adesso like a questo video e partiamo subito. Scusatemi un attimo. Ecco fatto. Ecco fatto. Mi sono un attimo sistemato con la telecamera. Allora si dice, partiamo subito perché Caruana di bianco apre con C4 l'apertura inglese. Allora Nepo vuol vedere un po' dove si va a parare. Gioca cavallo in F6, cavallo in C3. E invece qui arriva E5. E allora si va per le linee principali perché lo sviluppo del cavallo in F3 attacca il pedone che viene difeso col cavallo in C6. E qui siamo nell'importantissima variante dell'apertura inglese, la variante dei quattro cavalli. L'apertura del fianchetto con G3, la continuazione principale. Invece Caruana gioca E3, seconda mossa più giocata. Allora a mod inizio indiana arriva Alfieri in B4. Guardate però il nero anche che sviluppo armonico e anche veloce dei pezzi. E qui che cosa si minaccia? Si minaccia un cambio Alfieri sul cavallo che sciupa la struttura pedonale. E allora Donna in C2 è la continuazione principale, interessantissima anche Donna in B3. E allora arriva subito il cambio Alfieri per cavallo. Qui l'apertura si fa veramente interessante perché naturalmente sembrerebbe ovvio riprendere di Donna. Ed infatti la ricattura di Donna è la mossa più giocata. Eppure pensate un po', nella pratica il bianco ha risultati migliori dopo la ricattura verso il centro col pedone B. Qual è il fatto però? Il fatto è che quindi il nero non ha più la coppia degli Alfieri. Un certo compenso ce l'ha anche avuto perché ha fatto un danno alla struttura pedonale. Addirittura senza il cavallo, secondo controllo sulla casa centrale, ne può anche spingere in E4. Cavallo in G5, secondo attacco sul pedone che viene difeso con Donna in E7. E allora arriva F3. Pensate, ci sono dopo 8 mosse 111 partite rimaste in database. In 110 di queste il nero ha cambiato E per F3. E invece Nepomnesci sacrificherà questo pedone, lo lascerà in presa per seguire l'idea del fortissimo francese Etienne Bacro. Che con questa variante ha pattato di nero, ai più alti livelli, D6. E allora questo, come diciamo, è un vero e proprio sacrificio di pedone. Allora Caruana accetta il pedone col cavallo. Cavallo per cavallo. La donna ricattura. Donna per donna. Il pedone ricattura. E in questa posizione Bacro aveva giocato F6. E invece Nepo preferisce B6. Questa è la novità che dopo 11 mosse rende questa partita originale. E allora qui, senza le donne in campo, il bianco si ritrova in mano con la coppia degli alfieri. Chiusi però dai suoi pedoni centrali, ha però Caruana un pedone di vantaggio. È vero che è doppiato. Ed è vero anche che se riesce ad aprire qualche linea di attacco, allora la coppia degli alfieri senza le donne possono avere veramente il loro perché. Quindi posizione per nulla banale, anche molto particolare. Per questo motivo ho scelto questa partita. Posizione, come vedete, in completa parità. Ma con questi squilibri. Posizione totalmente a doppio taglio. E allora Caruana gioca D3. Arriva H5 che prende spazio sul lato di donna. Alfieri in E2 e arriva anche H4. Attenzione che arriverà anche H3. E allora H3 lo deve giocare Caruana. E allora Nepo gioca F6. Alfieri in D2. Alfieri in E6. Torre in F1. Re in E7. Mossa migliore. Ora che deve fare? Cosa dovrebbe fare il bianco? Intanto migliorare i pezzi. In questo discorso del migliorare i pezzi, naturalmente prima o dopo, torre in A che va in B1. Perché la torre in questo momento è il pezzo peggiore che sta facendo. Quindi torre in A che va in B1 sicuramente buona. Ma sempre nell'ottica di migliorare i pezzi. Connettere le torri e portare il re dove sta meglio. Sicuramente. Re in D1. Giocata da Caruana per portarlo in C2. È una mossa fantastica. E allora torre in A che va in G8. Re in C2. Le torri vengono connesse. Arriva G5. Ora vi faccio vedere che debolezze vede il computer in entrambi gli schieramenti in questa posizione. Guardate, naturalmente più la casa è rossa, più è brutta. Allora lui che cosa vede? Vede il pedone in F6 del nero. Debole. Come mai? Pedone arretrato. Su colonna semiaperta. Dove il bianco può raddoppiare difeso solo dal re. E che cosa vede di bruttino per il bianco? Eh, vede il pedone isolato in A2. L'altro pedone più semplicemente attaccabile. Forse quello in G2. Pedone arretrato. Addirittura sospeso. E allora torre in F2 per Caruana sarebbe sicuramente un'ottima idea. Arriva un'altra buona mossa a D4. Attenzione al forchettone di pedone. Allora uno dei due pezzi si deve muovere. Arriva alfiere in D7. Torre in F2. Per il raddoppio delle torri. E qui arriva G4. Guardate. Sembra una mossa di una logica cristallina. In realtà, secondo me, è una mossa molto molto pericolosa. Guardate che succede. H per G4 e al nero si è sciupata anche a lui in maniera grave la struttura pedonale. L'alfiere cattura Caruana, la coppia, non se la vuol far togliere. Riporta l'alfiere in D3. E allora arriva torre in H6. Raddoppio delle torri bianche sulla colonna F. Torre in G7. Alfiere in E1. Questa è la mossa, da punto esclamativo, è la prima mossa veramente, da punto esclamativo di questa partita. Una mossa fortissima a multifunzione. Cosa fa? Che cosa fa? Allora, libera la casa di D2. Se il re si vuole spostare, liberando poi l'alfiere su una diagonale, che non permetta al nero di cambiardelo. Ma questa mossa, alfiere in E1, guardate, a raggi X, c'è da una minaccia terribile. Nepomnisci non se ne accorgerà. E giocherà. Alfiere in C8. Un errore tattico gravissimo che Caruana non riuscirà a sfruttare. Certo, ricordiamoci, sono partite blitz a 5 minuti. E allora noi siamo arrivati al nostro quizzone. Ma ce ne saranno due in questa partita. Cosa giochereste in questa posizione al posto del bianco? Mettete pure in pausa. E da voi la parola. Ritorniamo subito a noi. Il colpo fantastico. È torre per pedone in F6. Non giocato da Caruana. Anche qui che si fa? Con il re non si può catturare. C'è la torre. E allora quando la torre cattura. Ricattura di torre in F6. La cattura con l'alfiere del pedone in H4. Naturalmente si riprenderà il materiale inchiodando la torre sul re. Mossa migliore. È il raddoppio delle torri. Ma questa non si può muovere. E qui addirittura la fantastica C5. Che libera tantissime idee per l'alfiere Campochiaro. Come vedete è quasi più 2. E allora ritorniamo a noi. Che succede? Succede che Caruana va a solidificarsi. Va a giocare torre in H1. E allora alfiere in H6. A cosa serve? Lui va a colpire. Inizia ad attaccare il pedone. Che è protetto soltanto da un pezzo. E allora alfiere in F1. Cavallo in A5. Pedone sotto attacco. Va in C5. Attenzione che gli è rimasto a Nepo l'alfiere sospeso. E allora alfiere per alfiere in F1. Il pedone C. Questa è l'intermedia fantastica. Ma anche semplice in questo caso. Pedone C. Cattura in D6 con scacco. E qui che si fa? Purtroppo Nepo non può mantenere la struttura pedonale buona. Non può catturare col re. Guardate che cosa sarebbe successo. Dopo re per pedone in D6. Naturalmente il bianco si deve riprendere il pezzo. E qui che succede? C'è il secondo attacco. Secondo attacco sul pedone. Naturalmente la torre non può portarsi dietro. Altrimenti arriva lo scacco col pedone inchiodato. Bisognerà giocare re in E7. Re in D3. Con la solita minaccia. Torre per pedone. Guardate che disastro. E allora il russo deve riprendere in D6 col pedone C. E allora la torre in H1 si riprende l'alfiere. Torre in H6 si porta in G6. Re in D3. Perché in modo tale se dovesse arrivare una cattura di torre in G2 non arriverebbe con scacco. E allora torre in H7 va a proteggere il pedone sotto attacco a raggi X. C4. E attenzione che il bianco glielo cambia davvero eh. L'alfiere sul cavallo. Perché ricordiamoci che il bianco ha un pedone di vantaggio eh. Vero che è doppiato. Ma insomma se gli fa anche al nero questo danno alla struttura pedonale veramente poi non c'è più controgioco. E allora Nepo toglie il cavallo e lo porta in C6. Torre in H1. Cavallo in B8 per andare in D7. A4. Classico attacco di minoranza. Cavallo in D7 A5. Gli vuole sciupare la struttura pedonale. Naturalmente qui gli sta rendendo il pedone. Ma accettare il pedone che Nepo non fa. Che cosa vorrebbe dire? Vuol dire che poi arriva la torre. Guardate che disastro. Si riprende materiale. Addirittura si minaccia di dare un'infilata bestiale. Che poi vinca la torre. E allora dopo A5. Re in E6. Elimina questa possibilità. E allora A per B6. Ora qui io quasi quasi avrei ripreso di cavallo. Ma poco cambia. Il pedone A ricattura. Torre in A2. Come mai? Perché tanto... Il problema è che ci sono tante troppe debolezze. Torre sulla colonna aperta. Torre in G4. Seconda protezione del pedone in H4. Arriva G3. E allora H3. La torre torna indietro. Il pedone cade. Si va due pedoni sotto. E allora torre in H8. Caruana di torre cattura in H3. Andare a cambiare le torri sotto di due pedoni. Vuol dire accelerare la sconfitta. E allora Nepo porta la torre in A8 sulla colonna aperta. Torre in H7. Se scacco di torre è l'alfiere che rientra. E allora cavallo in F8. Cerca di riportare in gioco il cavallo con tempo attaccando la torre. E questo è l'ultimo errore che addirittura si becca. Lo scacco matto forzato. E questo è il secondo quizzone. Allora scacco matto forzato in due. Mettete pure in pausa. E da voi la parola. Ritorniamo subito a noi. Perché Caruana gioca D5 con scacco. Vedete? Questa posizione Nepomni ci abbandona. Perché Reine 5. Mossa forzata. E poi mitico scacco matto di Alfieri. Alfieri in C3. Scacco matto. Perché i pedoni bianchi, guardate, chiudono tutte le vie di fuga al Re Nero. E grazie anche a questa vittoria, con la caduta di Vashela Grav negli ultimi turni, e poi con una partita drammatica che sembrava il francese potesse vincere contro lo stesso Caruana, che poi è finita in parità. Alla fine Caruana, incredibilmente, vince il San Luis Rapid & Blitz. Ma allora vi faccio vedere la classifica. E non ci resta altro che aspettare che domani sera inizi la prestigiosa, la fortissima, l'importantissima 5 Field Cup, uno dei tornei più forti dell'anno, con oltretutto il discorso che i punti che dà al circuito FIDE possano stabilire anche uno degli ultimi due posti al torneo dei candidati. E allora, se vi piacciono i miei contenuti e non siete ancora iscritti al canale, vi prego veramente di farlo, in modo tale che mi aiutate a farlo crescere e poi possiamo guardare insieme tutti i migliori tornei di scacchi. Io come al solito vi ringrazio tantissimo per l'ascolto e noi ci vediamo domani con un nuovo video. A presto! Grazie a tutti!